E ragazzi, come va? Io sono FieriNiki E io sono Steph, e benvenuti in questo nuovo vlog E ovviamente vi vogliamo rendere partecipi della nostra incredibile fortuna Perché vi annunciamo che siamo senza internet Yuppie! Allora, prima di tutto ci teniamo a precisare una cosa Ieri il video non è uscito per problemi nostri, non c'entra nulla internet Internet è morto intorno alle 7 e mezzo, 8 di sera, quindi il video già non era uscito Cos'è successo? Semplicemente ieri mattina ci siamo fissati a pensare su Minecraft Perché stiamo decidendo se portarlo o meno nel canale Stavamo pensando, 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 pensando A un certo punto ci siamo accorti che un tipo alle 4 di sera abbiamo fatto Ehi, ma non abbiamo il video di oggi! E quindi non è uscito il video Siamo delle belle persone Ma vabbè, non capitava da tanto Siamo davvero stanchi in questo periodo Pokémon Go è davvero stressante Con questo caldo è proprio faticoso organizzarsi per registrare in casa Poi uscire, registrare quello Convertiamo tutti i file Ci sta prendendo tutte le energie Anche perché la parte dell'editing appunto Con conversione di file, contando che appunto registriamo Prende il triplo del tempo Prende tantissimo tempo Quindi diciamo che poi Dovendo anche decidere su che nuova serie portare Dato che ora Pokémon Go lo porteremo ovviamente di meno Esatto Quindi diminuiranno Dobbiamo per forza portare un altro gioco Quindi pensando, pensando Ne parliamo a breve Parliamo a breve di Minecraft In ogni caso, sì ragazzi C'è stato questo problema qua Ci dispiace tanto Però comunque eravamo 2-3 settimane Che non saltavano niente un video Stavamo facendo un miracolo No, ne abbiamo fatto uscire anche un sacco di volte Dopi Due volte al giorno Era un miracolo Lo voglio dire per vantarci Ma lo voglio dire per far capire Che comunque ci teniamo a rispettare sempre L'appuntamento giornaliero dei video Quindi ci dispiace davvero tantissimo Un'altra cosa che vorrei dire Che poi la vorrei sottolineare Che internet non è che manca solo a casa nostra Ieri noi abbiamo subito chiamato Come abbiamo visto l'assenza di linea E ci hanno detto che è un problema di tutta questa zona Proprio È la zona dove abitiamo Che è saltato Esatto Il tipo al telefono Tranquillissimo Guarda non c'è internet nella vostra zona Fino a lunedì Capito? No, sabato e domenica non si lavora ovviamente Perché hanno detto che i tecnici non lavorano sabato e domenica Comunque questa mattina Ci è anche arrivato un messaggio Appunto Ci hanno detto La vostra segnalazione è arrivata Blah 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 Ve lo lasciamo anche qua Così lo leggete E ci hanno avvisato Che comunque stanno lavorando Per risolvere il problema Io spero Incrocio le dita Che ce la facciano prima di lunedì Beh io credo che sarà Almeno lunedì Spero che almeno non vada martedì In ogni caso ragazzi Dovremmo riuscire a far uscire sempre i video Questa mattina Ne abbiamo approfittato Per registrare due Pokémon Dovrò editare Sistemare tutto E andare a casa di mio fratello O da un'altra parte Dove c'è internet A mettere a caricarli A casa di qualche nostro fratello La connessione sarà lentissima Quindi io mi aspetto Sei, otto ore di upload Insomma Sarà davvero difficile Però crediamo che Per domenica e per lunedì I video riusciremo a farli Ne approfitteremo anche Per registrare i The Sims Che da un sacco che non escono Insomma Riusciremo Se almeno The Sims Si può registrare Perché lo puoi fare anche offline Esatto Siamo offline Almeno quello possiamo farli Questo invece lo stiamo caricando Con la connessione del telefono Che per fortuna Ne abbiamo abbastanza Quindi almeno per un video Sì abbiamo abbastanza Le ha 5 giga Io ne ho due Ma sapete perché Tantissimi giga Lo voglio dire Perché ho fatto quella cosa Di portare le persone in wind Quindi io ci ho guadagnato Prendendomi un sacco di giga Grattis E tipo ne ho 5 al mese Ok È una storia bellissima Comunque passiamo Un genio del marketing No Passiamo a Minecraft Passiamo a Minecraft Sì 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 Allora Minecraft 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 Prima di tutto A noi il gioco piace Noi lo vorremmo portare nel canale Ma non lo vogliamo portare Nel solito modo Non vogliamo portare Una mappa survival classica Non vogliamo fare una vanilla classica Non vogliamo fare Un modo showcase classico Insomma Vogliamo andare in qualcosa Anche perché Ci tengo a precisare Ci sono tanti altri canali Che trattano già queste cose E sono molto più esperti di noi Per darci una mano ragazzi Potete fare una cosa Metteremo due commenti Uno con scritto sì Uno con scritto no Mettete il like Al commento Che preferite Quindi per dirci Se volete appunto Che facciamo una serie Su Minecraft O meno Così almeno capiamo anche voi Cosa ne pensate di Minecraft E inoltre Perché secondo me Sai che cos'è Secondo me sta un po' passando di moda Minecraft Minecraft sta piacendo A meno persone Io la putto lì Proprio lo dico Secondo noi Ha tanto potenziale Cioè noi ci vediamo Tante cose che si potrebbero fare Che in effetti Non esistono Perché tipo I modpack Sono un po' sporchi Un po' sprecati Ci sono tantissime modi dentro Però la maggior parte Sono inutili Cioè tra loro Si contrastano Insomma non piacciono Neanche a noi Certe cose di Minecraft Però abbiamo in mente Delle cose Che se riusciamo a fare E serviamo tante ore di ricerca Che abbiamo già iniziato A fare un pochettino Se riusciamo a portare L'idea che abbiamo Secondo noi Minecraft Può tornare ad essere Qualcosa di fresco Di originale E di davvero bello Poi è proprio questo Che appunto La creatività Ogni youtuber Lo può portare Un po' come vuole Sia che vuole fare Una serie normale Sia che vuole fare Un mod showcase Alla fine permette Proprio di dare Tanta libertà Ed è appunto Per questo Che noi lo vorremmo Nel canale Esattamente Quindi fateci sapere Tramite i commenti Mettete i like Ovviamente potete scrivere Anche dei commenti Argomentando Certo certo Scrivendo perché appunto Lo vorreste O perché non lo vorreste E noi cercheremo Di decidere in questi giorni In ogni caso Anche se inizierà Penso ci vorrà un po' Perché dovremmo fare 2000 ricerche E di mod Non ne capiamo davvero nulla Quindi No 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 Abbiamo giocato sempre La survival E mini giochi Esatto Di mod sinceramente Non ne capiamo niente Ultima cosa Ovviamente annunciamo Finalmente I vincitori Della challenge Di Pokémon Ci abbiamo messo più Del previsto Perché gli screenshot Sono stati davvero Tantissimi per raccoglierli E fare tutte poi Gli screenshot appunto Perché li dovevo rifare Mettere nel PC Li ho modificati Alcuni con Photoshop Perché altrimenti Non si capiva neanche che Pokémon Che Pokémon fosse Ci ho messo una vita Tantissime ore Perché sono stati davvero troppi Quindi vi ringraziamo Per aver partecipato E finalmente Li possiamo annunciare Ci siamo pentiti Di averla fatta praticamente A parte gli scherzi No da non dire queste cose Non pensavo mai Che fosse così faticoso Vi ringraziamo tantissimo Perché avete partecipato Davvero 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 In tanti Quindi è stata una figata pazzesca C'è da dire una cosa ragazzi Molti di voi Non hanno capito la sfida Ovvero Ci hanno mandato i loro Pokémon Più rari E più forti di sempre Quando sarebbe dovuta Essere che in quei giorni Di tempo che abbiamo dato E di tre giorni di fare fossero Ci avreste dovuto mandare Lo screenshot del Pokémon Più raro e più forte Che siete riusciti a catturare Non i Pokémon Di sempre presi In ogni caso Sono talmente tante le persone Che non hanno capito Questa cosa Che abbiamo deciso Di tenere la sfida così Quindi Pokémon più rari E più forti di sempre Iniziamone Mentre a farveli vedere Compariranno nello schermo Ne abbiamo selezionato Tanti Diciamo Dal sito Che abbiamo deciso Di prendere Perché non abbiamo Dalla tabella Che avevamo Deciso Di utilizzare il Pokédex Utilizziamo una tabella Di un sito Che ci è sembrato affidabile Da quella tabella Prenderemo Le ultime tre tabelle Le ultime tre sezioni Chiamiamole Le sezioni Ovviamente Con quei Pokémon Ci sono stati Tantissimi screenshot Quindi li abbiamo Raccolti tutti Diciamo che Per il Pokémon più raro Facciamo vedere Tutti quelli Più rari Che riteniamo Più rari Tramite quella tabella Esattamente Così ci sono Tanti vincitori Speriamo di aver fatto Felici tutti Ragazzi avete trovato Davvero un sacco Di Pokémon fighissimi Tra Blastoise Charizard Ho visto davvero Di tutto Rosicato tantissimo Noi ovunque andiamo Troviamo schifezze Davvero improponibili Non so se è colpa Della nostra città A sto punto Non capisco Se è solo sfiga Ma non è vero Perché anche quando Andiamo a battere Le palestre Qui a Cagliari Ci sono persone Con Pokémon fortissimi Quindi secondo me Siamo solo noi Siamo solo noi È colpa tua È colpa tua C'è la sfiga Dietro di te Ah io Io Sì tu al massimo Invece Per quanto riguarda I Pokémon più forti Possiamo dire Che i vincitori Sono stati due Abbiamo deciso Di prenderne due Perché i Pokémon Sono stati davvero Fortissimi E abbiamo Kevinino Con un Dragonite A 2274 Dimmi che non è fortissimo Cioè Io quando l'ho visto Ho detto no Non ci credo Non ci credo Non solo È da 2200 Ma per di più È Dragonite Che è uno dei Pokémon Più belli in assoluto Appunto Poi cioè Io li adoro Adoro tutti i draghi Tipo Drago Lo sappiamo Lo sappiamo Come l'ho visto E in più l'ho visto Così forte Ho detto no Non ci posso credere È anche l'altro Forte Lo sai che è sempre Un Dragonite Ok E da quanto? Lo sai che è sempre Dragonite Da 2197 Ed è il Dragonite Di Alessio Quindi di pochissimo Sono entrambi vicinissimi Con lo stesso Pokémon Esatto Siccome la potenza Il Pokémon era lo stesso La potenza Era vicinissima Era vicina Quindi ho deciso Di prenderli tutti e due Piuttosto che sceglierne solo uno Non ce ne possono regalare uno Anche a noi Passateci l'account Un 2500 Comunque complimenti Esatto Perché loro due Hanno dei Pokémon davvero forti Lo devo dire Sono fighissimi E davvero fortissimi Siamo stati davvero Davvero fortunati Il nostro massimo in questo momento È 1740 Quindi immagine Siamo abbastanza distanti Quindi davvero ragazzi Complimenti Siamo davvero felici Di questa sfida È stata divertente E anche se non si è capita bene Mi è piaciuta comunque Vabbè dai Forse l'abbiamo spiegata Anche male noi Alla fine In effetti Non abbiamo specificato Abbiamo detto Le regole della sfida Però forse Dovamo essere un po' più chiari Abbiate pazienza È la prima sfida Che abbiamo organizzato Quindi anche noi Non è che siamo Bravissimi in queste cose Esatto In ogni caso Fermiamoci così Perché se dura troppo il video Ci finiamo tutti i gigare Non riusciamo neanche a caricarlo Ci vediamo domani ragazzi Speriamo di riuscire A pubblicare i video Speriamo di riuscire A non farvi saltare altri video Come è successo ieri Comunque ci vediamo domani ragazzi Ciao ciao